ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video come vedete questa è una mia cliente e già ho fatto il refill quindi è arrivato tutto il gel vecchio e una ricostruzione con tip e adesso sto stendendo questo colore bellissimo mimetico di passione unghie e come prima passata poi andrò a applicare come sempre la seconda passata e nell'anulare andrò ad applicare il colore nuovo che mi è venuto che avete visto nel mega haul di passione unghie che ho fatto il video dello spacchettamento amsterdam che si dice molto al mimetico perché pure quello è un verdino brillantinato molto bello e niente adesso applico la prima passata poi la stessa cosa però con il colore amsterdam e infine lucido ultra gloss e olio cuticole io spero che il video vi piacerà se sarà così metterete il pollice in su su te le commenti se mi volete commentare mi commentate io vi lascio il video e ci vediamo presto al prossimo video un bacio e alla prossima ciao 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 ciao